Un traguardo storico per la sua Rebecca Inor Meccanica. Cosa ha provato quando ieri è stata sollevata questa Coppa? Io quando ho sollevato questa Coppa ero più emozionato. Per la città è un regale che io dovevo fare alla città e ci siamo riusciti. Noi non ci fermiamo. Questo all'inizio, ve l'ho sempre detto dall'inizio, che noi non ci fermiamo più. Vogliamo continuare nei successi. Abbiamo la prossima Coppa con i russi e ce l'ho scudetta in balla e ce lo giochiamo. È andato tutto bene anche con la nuova gestione Caprara? Caprara non ha mai subito una sconfitta? Con l'inserimento di Caprara la squadra è cambiata totalmente. Perché io sapevo dell'investimento delle giocatrici, che sono delle grandi professionisti. Caprara ha dato la svolta che io mi aspettavo come Presidente Onorario. Ringrazio a mio figlio Vincenzo, a mio figlio Affredo, a Varac e a tutti i team. E ringrazio alla città di Piacenza che ho visto tutti questi tifosi che ci seguono. Io invito a tutti per mercoledì sera a Palabanka per la partita con la Russia. Ora quindi si pensa alla Challenge Cup. Mercoledì alle 20.30 al Palabanka e domenica alle 13.30 in Russia. Entrambe le gare con Krasnodar verranno trasmesse in diretta su Tele Libertà 2, canale 289. Gli altri appuntamenti televisivi sono questa sera alle 23.05, Villa Cortese, Rebecca Inor Meccanica. E domani alle 20.40, Bergamo, Rebecca Inor Meccanica. Entrambe su Tele Libertà 1. E domani alle 20.40, Bergamo, Rebecca Inor Meccanica. 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 Grazie a tutti